Padova, soffiano i mantici di una fonderia, domani soffieranno quelli degli organi. Leghe di piombo e di stagno passano nel laminatoio. Tagliatrici e presse riducono la lamina allo spessore voluto dall'artigiano che l'avvolge e crea la canna. Nascono la voce e l'intonazione dell'organo. È il momento personale. Adesso il costruttore trasfonda il proprio temperamento nel timbro e nella qualità del suono. Un apparecchio di prova, ma prima le canne si controllano col fiato come tube. Chilometri di filo, migliaia di saldature. Le console di comando paiono centralini telefonici. Il fiato dei mantici si muterà in corali. Fiato che vuol dire spirito. Ogni spirito loda il Signore. Alleluia.